Nessuno, neanche uno Fai un applauso, ormai Ma io sono impegnato che i mani Vai un applauso Bravo, ecco, vai, vai, bravo Che scorrere, faccia l'applauso Bravo, ecco, un applauso a Lina, la grande... Regista Regista Ne chiudiamo la porta Niki Giosino chiude la porta a Lina Vermiul Si sta redimendo, Niki Giosino Dopo le Iene E dove vanno? Che vuoi fare una foto pure a te, signor Ariano Salve, Lina Voi tutti applausi, voi tutti voti Vanno detto Lina Vermiul le lascia il Festival del Cinema di Roma Venerdì 17 ottobre 2014 Vicino al Red Carpet Dopo aver fatto parecchi casting qui a Piutua